Vera Gheno, sociolinguista, un ibrido, che quindi scontenta l'una e l'altra parte, ma è necessaria all'una e all'altra parte. È necessaria non credo, però sta bene così. Sta bene. Sta bene sulla staccionata. Sul bilico, un po' come l'uomo di Zaratustra, così parlo Zaratustra. L'uomo è teso, anzi, l'umano è teso verso l'abisso e quindi tu sei tesa verso l'abisso. No? Cercheremo di scoprirlo in questa prima cogitata di Daily Cogito. Quindi benvenuta, siamo felici di averti qua e cominciamo, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Sì, sai, questo è proverbialmente il podcast che combatte la zombificazione. Quindi ogni ospite è chiamato a combattere la zombificazione. E se c'è una cosa che io ho sempre pensato degli zombie è che hanno una caratteristica. Non parlano, non parlano, non hanno parole. Esatto, hanno questi suoni. Mughiano. Mughiano, mughiano. Che bella parola che è mughiare. Mughiare, già il suono ti fa capire dove si va a parare. Ma con il suono ci possiamo divertire. Con i suoni ci possiamo divertire. Sai, io sono un lettore di manganelli, landolfi. Quindi per me le parole sono veramente degli strumenti musicali. E sai, io mi sono innamorato del linguaggio. Quando, veramente in tenerissima età, ho cominciato ad ascoltare le canzoni di autori come Bassi Maestro, come Fabri Fibra, il primo Fabri Fibra, Gio Cassano. Quindi i primissimi rapper italiani che incastravano le parole in modi assurdi. E usavano le parole non più come dei significanti, quindi qualcosa che veicolasse dei significati, ma letteralmente come i pezzi dei Lego. E io lì ho cominciato a dire, ok, con le parole ci si gioca, veramente. Prima di tutto ci si gioca. E giocandoci ampli il vocabolario e poi capisci cosa puoi dire. Questa è una cosa... Già su questo io non sono del tutto d'accordo, perché secondo me per giocare con le parole prima devi capire che lo puoi fare e quindi devi già conoscerla abbastanza bene. Cioè il gioco del bambino è un gioco diverso perché è un gioco senza bias, senza pregiudizi ed è avvolto a imparare. E allora il bambino impara molto per i mimesi di qualcuno e quindi sente gli altri parlare, riproduce i suoni. Poi è bellissima la fase in cui costruisci il linguaggio per analogia, no? Quindi sedia, il verbo sarà sediare, no? Non è sediare, no? Perché giustamente loro costruiscono così, sono analogici. E poi ne rimangono tracce nei dialetti che sono meno strutturati, no? Delle lingue nazionali. Vabbè, scusa, mi è partita la bambola. Quando poi lo facciamo un po' più da grandi il gioco linguistico, richiede però che ci siano delle basi. Certo, certo. Quindi le basi, quelle le devi avere, probabilmente tu le avevi già. Cioè, un interesse soggiacente per il linguaggio, per la parola, c'era già e hai capito la potenza del gioco linguistico. Perché di solito l'inverso, io non so, la vedo un po' più difficile. Poi magari mi sbaglio io, ho dei bias a mia volta. Guarda, io ti dico, mi ricordo bene quel periodo, perché io ascoltavo, non so, era anche il periodo in cui venivano fuori i primi dischi di Caparezza, ok? Avrò avuto allora 13 anni, quando è uscito il suo primo disco, capivo il 20% di quello che diceva e me le riascoltavo varie volte, ma io mi ricordo che mi faceva ridere prima dei connotati linguistici, dei significati, dei rimandi, proprio il fatto che si incastrassero le parole e che cambiasse gli accenti in maniera… E questa cosa qua mi ha proprio… Io ci ho provato, però non ho mai avuto talento nel fare quello. Infatti io ho fatto rap per 5-6 anni in modo disastroso. Infatti ogni volta che tiro fuori l'argomento, la gente online mi fa Rick, ma quando è che ci fai ascoltare qualcosa? La risposta è mai, non sognatevelo… È stato tutto bruciato. Tutto bruciato, cancellato, è un passato che non esiste se non qui dentro e ci vuole uno scienziato malvagio che estragga il mio cervello per metterlo in un liquido omniotico e su un computer per estrapolare. E spero che anche in quel caso… Hai letto troppo William Gibson, va bene. Oh Gibson, Dick, ciao. Però sì, io ricordo che era proprio divertente la parola. Poi ovviamente arriva il momento in cui comincia a chiederti ok, ma in quel verso, caparezza, bassi, maestro, fibra, cosa ha cercato di dire, cosa ha cercato di veicolare. Però qua c'è un aspetto anche interessante che è quello che è un campo artistico. Nell'arte ti puoi permettere di tutto fondamentalmente, perché l'arte non ha confine nell'uso della parola. Ovviamente quello diventa ulteriormente più complicato quando il linguaggio esce dal campo dell'arte. Non so, mi vengono in mente poesie di Landolfi in cui lui letteralmente inventa delle parole che cercano di suscitare un'emozione attraverso il suono. Quella cosa, quando viene poi applicata nella vita reale, non funziona. Perché il linguaggio è qualcosa su cui io e te cerchiamo di concordare. Certo, è un codice. Quindi al momento in cui deviamo dal codice poi manca la comprensione reciproca. Manca la comprensione. Cioè dobbiamo rimediare il significato di quella certa cosa. Se noi lo dovessimo fare di continuo diventerebbe disastroso. Un po' stressante. Eh sì, è vero, è vero. Cioè il codice funziona proprio perché c'è una sorta di convenzione nell'uso delle parole. Poi nel contesto l'arte rimane il polo della libertà ed è giusto che stia lì. Cioè ci deve essere e però il nostro approccio con l'arte deve essere diverso rispetto all'approccio con la lingua per la vita quotidiana. Io ho sempre vissuto l'arte, io non so, mi vengono in mente i romanzi di Borges per esempio. Per me Borges, che è stato un grande inventore di linguaggio, ha fatto un po' l'avanguardia di quello che poi è il linguaggio che entra nel gergo. Tu ti occupi tantissimo di gergo giovanile per esempio. Sì. Non so, io qualche anno fa ho discusso con, ho avuto un incontro con Roberto Saviano che ci ha fatto un bellissimo, una bellissima conferenza privata praticamente perché era al di fuori di quella pubblica spiegandoci come le famiglie nell'ambito dei territori dominati dalla Camorra riescono a comunicare fra di loro attraverso i linguaggi del rap attualmente. E ci ha fatto un sacco di esempi interessantissimi mostrando un fatto fondamentale, anzi un duplice fatto. Il primo è che l'istituzione, quindi in quel caso la polizia, non riesce a individuare quei codici. Non ci arriva, non ce la fa. Perché l'istituzione fa uso di un linguaggio burocratizzato che non può essere all'interno dell'avanguardia. E dall'altra parte la fluidità di cambiamento continuo di quel linguaggio. e quindi vorrei che raccontassi un po' intanto da dove è nata questa passione per il gergo che io ho seguito anche il tuo TED che hai fatto che è stato veramente bellissimo. Quale? Quello di Montebelluna? Penso di sì. Uno è di Montebelluna, uno è di Pavia, uno è di Bologna, sono tre. Ne ho visti due, ne ho mancato uno, non ho studiato. Non ti preoccupare, era il TEDxYouth, quello era un altro contesto. Fra l'altro sul TEDx di Montebelluna io penso, c'era una cosa che mi stava inquietando moltissimo, quindi non ero serena. E quindi per me non è stato il mio migliore TED fra i tre. Qual è stato quello di Montebelluna? Di cosa parlavi? Era quello sul potere della parola, mi ricordo, sulle parole. Sì, 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 ok, l'ho sentito, l'ho sentito. Ma secondo me è quello... Eri emozionata, eri molto emozionata. Eri molto emozionata e avevo un problema, diciamo, tecnico che non potevo risolvere, che dovevo gestire live. Tranquilla, è stato molto bello comunque ascoltarlo. Non l'ho più rivisto, ma la cosa buffa è gli altri hanno un numero di visualizzazioni coerente con ciò che sono, medio. Quello c'ha... Skyrocket. No, no, ma quanti... E un po' mi turba che quello in cui non ero perfettamente posata, come avrei... Cioè, non ho dato il massimo. Nella performance è quello che ha avuto più successo. Vabbè, questo è nei casi della vita, la sfiga. Comunque, da dove viene questa passione? Non saprei, se non che... Per tutta la vita io sono stata molto interessata ai fenomeni liminali della lingua. Cioè, a tutto ciò che è in limine, sul confine. Da una parte perché vengo da una... Da un'educazione molto classica. Cioè, il mio papà è un linguista, un filologo ugrofinno. Quindi hai ereditato la passione. Sì, infatti ho cercato di allontanarmene iscrivendomi a ingegneria, perché non volevo fare la linguista. Quindi è bellissima questa cosa. Certo, certo, c'è stato proprio il rifiuto. Volevo salvare le foche. Avevo questo... Volevo fare la Greta Thunberg, se ci pensi. Cioè, avrei fatto la Greta, probabilmente. Poi mi sono arenata su Analisi 1 e al settimo tentativo ho detto sai che forse, forse devo tornare con la coda fra le gambe al letter. Avete sentito, una vera poliglotta ha detto Greta Thunberg che effettivamente la pronuncia non Thunberg, non Thunberg. Thunberg! Because we're all English speaking in the world. No, no, no. Credo sia addirittura Thunberg, un po' con... Vabbè, comunque lasciamo... Eh, beh, io ho vissuto in Finlandia per tre anni. Non c'entra nulla perché quelle sono lingue scandinave, non scandinave, scandinave. Invece il finnico è una lingua ugrofinnica. Però comunque lo svedese me lo parlavano accanto. Ok. Cioè, svedese, danese, islandese si somigliano un po'. L'hai sentito, quindi, insomma. Vabbè, detto questo, ho studiato al classico. Poi ho studiato lettere moderne, ma comunque l'impostazione era molto tradizionale, no? Per cui ho fatto tanta linguistica generale, tutto ciomsky, l'universale linguistica. E però io, siccome sono un po' discola, ero sempre attratta da ciò che deviava dalla norma, no? I dialetti. Mia nonna Maria, in ogni famiglia per bene c'è una nonna Maria, mia nonna Maria Zilio, tipico nome veneto, di Romano Dezzelino, perché la mia famiglia da lì parlava solo di Aeto, no? E quindi io avevo questa donna in casa con cui se volevo discutere, dovevo discutere in dialetto. Poi sono cresciuto in una famiglia bilingue, per cui c'è sta cosa stranissima che io, mio padre e mia madre, litighiamo switchando fra le tre lingue, l'ungherese, l'italiano e il veneto. Perché come ci si incazza in Veneto non ce n'è, no? Per cui, cioè, mia madre, che è un gherese puro sangue che si mette a tirare in properi in Veneto stretto e da morire dalle risate. Poi, mi interessavano molto i gerghi dei giovani, perché ovviamente io ero una fuoricasta, ero vagamente secchiona, poi, vabbè, insomma, ero un mostro, ero un piccolo mostro, no, no, davvero. Freaks proprio. Sì, 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 con gli occhialoni spessi. Ieri sera ho raccontato che avevo la mia amica bella, serena, che mi portava in discoteca, ma stiamo parlando a 16 anni, quindi la discoteca era domenica pomeriggio, e mi faceva togliere gli occhiali, perché è vero, non si può andare in discoteca con gli occhiali, risultato io non vedevo nulla. Macchia di colore. No, beh, la cosa bella è che quando mi sono rimessa gli occhiali ho scoperto di avere limonato con gente che... Scusa, mi sono sbagliata, cioè, roba del genere, capito? È quello che gli altri sperimentano con l'ubriachezza molesta, a te ma stava a togliere... Cioè, hai capito? Che fortuna incredibile era! Però, nel mio essere fuori dei giri dei fighi, perché appunto era un po' la ragazza tappezzeria, la ragazzina tappezzeria, mi interessava molto come parlavano, no? Cioè, il mio modo di insinuarmi poi nel loro gruppo era quello di carpire il modo in cui usavano le parole, appunto perché lì è proprio gergo, è il gergo della tribù che è molto ristretto e ti identifica come membro, no? E poi da lì, vabbè, ho incontrato sulla mia strada una professoressa molto brava di sociolinguistica che si chiama Patrizia Bellucci e lei mi ha fatto capire una cosa fichissima, cioè che tutte queste manifestazioni che apparentemente sono devianti rispetto alla norma, dal punto di vista del sociolinguista sono le più interessanti, perché sono quelle che dicono di più, sono il campo della sperimentazione, no? Per cui, quale che sia il campo, cioè, stiamo parlando di gamer, stiamo parlando di, appunto, questioni LGBT, stiamo parlando di nuove sessualità, stiamo parlando di quello che vuoi, il mio approccio è di grande curiosità e cerco di non avere pregiudizi, per cui non mi sentirai mai dire oh, come fanno questi giovani a dire flexare, no, flexare è fichissimo, si capisce bene cosa vuol dire, cioè, secondo me è trasparente, ma quando sento mia figlia che nerda, farma, killa, rispona, no? perché gioca a Fortnite o a quello che è, semplicemente io, io me lo segno, oddio che carino, questa roba me la devo segnare, perché è interessante, poi io sono ex gamer anche, quindi ai miei tempi non c'era, forse non usavamo un gergo, perché era molto più personale il gioco, anche quando c'erano i LAN party, ma ognuno giocava per sé, la cosa del parlarsi e chattare durante, fare lo squadrone, è poi arrivata un po' successivamente, io lì avevo già smesso di giocare, insomma ho un'età, sono del 75, quindi... Poi però è proprio lì che il gergo del videoludismo è diventato qualcosa di incredibile, che peraltro si è espanso a macchia d'olio in tutto quello che è il web, perché voglio dire, triggerare, che è una parola che io utilizzo tantissimo, perché va proprio a insinuarsi in un vuoto italiano, non c'è la parola che dice esattamente ciò che triggerare significa, tipo altre parole... anche perché grillettare o sgrillettare non è esattamente il massimo effettivamente, io cerco sempre di dire, cioè è meglio usare triggerare ragazzi, se volete dire quella cosa, per esempio altre parole come cringe, cringe è bellissimo, cringe è bello, però lì ecco per esempio ci sono delle parole che possono significare... Eh sì però non è proprio rabbrividire, non è proprio infastidire, cioè il cringe è una roba... è proprio questo no? è come quando noi sui newsgroup usavamo, e poi su FriendFeed, che poi è morto, ma era il mio social d'elezione, dove mi sono fatta le ossa, noi usavamo tantissimo Fremdecemen, che è la vergogna conto... vergognarsi conto terzi, ah ok... e avevamo fatto il verbo fremdare, no? Fremdare? Sì, che voleva dire Fremdecemen appunto, perché poi è un verbo in tedesco, ma Fremdecemen è quando, non lo so, il tuo carissimo amico va in televisione, e sbaglia un congiuntivo in diretta, e tu... Senti vergogna per lui? Eh esatto, ok, la vergogna è indotta, però smosi... la vergogna conto terzi, io la chiamo, e secondo me è bellissimo, la vergogna contumacia, bellissimo, bellissimo, che è un concetto che, un tedesco, essendo una lingua che crea parole nuove attaccando insieme le robe, fa prima affare, noi italiani invece siamo, diciamo così, analogici, laddove altre lingue sono sintetiche, e quindi noi dobbiamo... Cioè abbiamo la perifrasi... La circolocuzione, ma è una rottura, cioè per questo cringiare entra, o flexare, perché flexare non vuol dire fare il braccino, cioè tutto, no? È far vedere che c'hai una vita opulenta, no? Poi un aspetto molto interessante è che da questo punto di vista c'è una spaccatura generazionale, che peraltro è continua, perché ogni generazione c'è il suo gergo. Sai, noi in questo periodo storico viviamo un'epoca in cui si parla tantissimo di conflitto generazionale, lo si parla nell'ambito dell'ecologia, abbiamo citato prima Greta con la denuncia You Stole Our Future, lo vediamo nell'ambito politico, con lo scontro fra l'entrata nel mondo del lavoro e la previdenza, e lo vediamo poi nell'ambito del linguaggio. Ora, io ti faccio una domanda perché mi piacerebbe entrare in proprio qualcosa di molto vivo che fa parte della tua divulgazione, di quello che spesso dici nelle tue conferenze. E vorrei entrare quindi nell'ambito del cosa fanno le parole alla realtà, ok? Perché a me pare, qui poi correggimi se è così, che il tuo approccio sia molto vicino a quello che è il costruttivismo, cioè nel senso le parole sono dei costrutti sociali che ci permettono in un certo modo di modificare l'ambito della realtà che tutti noi viviamo ed esperiamo. Da un certo punto di vista, quindi se dico questo andiamo nella direzione giusta, ok. Sì, cioè io non uso mai la definizione costruttivismo, però per esempio nelle mie discussioni con Matteo Flora, ciao Matteo, le usiamo spesso, quindi mi riconosco, anche se poi dirò altre cose, ma insomma la direzione è giusta, quella è la direzione, quella è la direzione, poi io leggendo altre cose io ho capito tu sei comunque sei a metà strada fra le prospettive perché l'altra poi è quella del cosiddetto corrispondentismo, cioè il fatto che le parole alla fine sono dei vettori di significato che si adattano a un ambiente preesistente, ovvero se una parola viene adottata da una comunità è perché quella parola funziona, non perché qualcuno ha deciso di adottarla e via dicendo, non perché sia stata costruita, ma perché c'è l'opportunità ambientale, ora io per esempio nel corso dei miei studi sono passato dall'ambito costruttivista, io ho studiato approfonditamente da Foucault a Derrida, tutti i costruttivisti molto molto strong anche diciamo così, che hanno cercato di portare avanti questo tipo di prospettiva che oggi è una prospettiva che cerca di farsi largo nell'ambito del dibattito pubblico, cioè il linguaggio è una costruzione sociale e manipolare, tra virgolette, cambiare il linguaggio significa cambiare la realtà, piano piano però poi mi sono accorto di alcune cose che poi nel corso della discussione magari mettiamo in mezzo, mi sono accorto che nel corso della storia i tentativi di costruire linguaggio per modificare la realtà sono migliaia e sono pochissimi quelli che hanno avuto un impatto reale e mi sono accorto che in realtà cito una discussione in cui mi hanno coinvolto qualche giorno fa su Twitter a un certo punto vengo coinvolto in una discussione in cui due persone stanno parlando della parola popolo ok allora una persona da costruttivista dice la parola popolo è una parola possiamo tranquillamente disfarcene possiamo guardare come viene usata criticarla modificarla e via dicendo se c'è un certo consenso a riguardo ok semplificando ok dall'altra parte c'era invece un leghista duro e puro che diceva no la parola popolo esiste perché il popolo c'è il popolo c'è è una realtà esistente e noi mettiamo un'etichetta su qualcosa che esiste ok io credo che queste due prospettive siano abbastanza diciamo così insufficienti ecco per spiegare la realtà perché credo che in realtà la via di mezzo in questo caso sia veramente quella da perseguire è vero che c'è una realtà che ha bisogno di essere etichettata dall'altra parte è altrettanto vero che noi abbiamo un certo dominio sulle parole ma poi queste cose vanno assolutamente immediate e quando si attribuiscono e si va avanti per queste due strade secondo me siamo di fronte a un impasse delirante e dal mio punto di vista il dibattito pubblico sta sempre più andando in quella direzione non so come la vedi tu noi siamo figli di 40 anni di polarizzazione più o meno cioè siamo abituati a ragionare per polarizzazione nella maggior parte dei casi quando io discuto online poi arriva qualcuno che mi dice ma allora sei d'accordo sì o no e se tu dici ni passi da cerchio bottista è democristiana è democristiana esatto ma non è non è una questione di cerchio bottismo è che nessuna delle due prospettive secondo me si basta da sola questo è proprio allora non soddisfatta del livello di conoscenza che avevo della questione perché di solito si parla della famosa ipotesi Seppir-Whorf non so se non conosco ecco perfetto è la versione linguistica di quello che tu mi hai raccontato in ambito filosofico cioè filosofico linguistico però sempre filosofia del linguaggio allora succede questo stiamo parlando della prima metà del novecento ci sono alcuni linguisti che più o meno dicono il linguaggio che noi usiamo condiziona il nostro modo di vedere la realtà e in particolare questo Benjamin Whorf che non era un accademico ma era un assicuratore nell'ambito dell'antincendio quindi si occupava di incidenti derivanti da incendi e poi si mette a studiare linguistica allora in particolare lui fa questi ragionamenti basandosi su studi su lingue molto lontane dall'inglese quindi lui aveva studiato Hopi aveva studiato altre lingue diciamo all'azteco è uno di quelli che è un po' aiutato abbastanza distanti sì 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 e diceva scusa posso chiederti di girare il microfono no ma puoi girare il microfono esatto e diceva appunto se noi andiamo a vedere i sistemi linguistici molto lontani anche inusuali per noi vediamo che ci sono proprio dei modi di concepire la realtà diversi per esempio non mi ricordo se lui citava proprio Hopi o un'altra lingua non hanno il concetto dello ieri e del domani ma vivono tutti i giorni come una circolarità perenne quindi una circolarità temporale invece è molto affascinante quello che diceva lui poi arriva Chomsky che invece dice ci sono degli universali linguistici no noi nasciamo che abbiamo già un bagaglio di strutture linguistiche nel cervello che è il generativismo no e poi l'esperienza tira fuori quelle competenze che già abbiamo addirittura Chomsky appunto dice una cosa molto estrema ma molto affascinante noi quando nasciamo conosciamo tutte le lingue del mondo e invece di impararne una ne disimpariamo tutte le altre che la prospettiva è Kant portato fino al novecento cioè le strutture predeterminate allora Chomsky va in aceto con Worf proprio non lo sopporta Worf purtroppo muore molto giovane a 44 anni e quindi di fatto non si accademizza mai però lui promulga questa idea che lui chiama teoria della relatività linguistica ricordiamoci che lui aveva un background scientifico per cui lui fa una connessione con la relatività einsteiniana dicendo non dobbiamo dire che questa cosa è bianca o nera possiamo dire che è in uno stadio come dire grigio certo e lo applicava anche alla lingua per cui diceva io vedo che sotto ci sono delle strutture linguistiche linguistiche universali ma vedo anche che nelle lingue che io ho studiato ci sono delle manifestazioni che mi dicono che è proprio vista in maniera diversa la realtà ecco Chomsky a posteriori rigetta completamente questo 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 quadro e dice che sono tutte vaccate la relatività linguistica cade in disgrazia perché fra l'altro viene chiamata ipotesi Sapir-Whorf perché siccome Worf da solo non bastava non era abbastanza accademico allora Edward Sapir che era il suo maestro se la colla come dire per dare spessore sì perché lui invece era un professore strutturato e così via la solita storia cambiano gli scenari ma alla fine le cose sono sempre così l'ipotesi di Sapir-Whorf spunta fuori ogni tanto e nonostante i generativisti la contestino moltissimo da allora cioè dagli anni 50 in poi riciccia sempre fuori come la peperonata certo tanto è vero che quando io ho letto dell'ipotesi di Sapir-Whorf ho detto cavolo questa roba è fichissima e però non riuscivo a trovarne la formulazione originaria perché non c'è perché Worf la accende in vari studi ma non arriva mai a metterla giù seria e io sono rimasta così affascinata che ora sto leggendo i lavori di Worf in inglese ok di che anni sono? prima degli anni la raccolta è del 56 è del postum ok anni 50 quindi ok però lui li aveva scritti prima è un campanato di robe degli anni 40 ah quindi è ok 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 a distanza di molto tempo quindi sono stati pubblicati poi sì perché lì per lì quando lui muore non interessavano a nessuno però ecco poi ti chiederò qualche qualche riferimento così lo metto anche sotto in descrizione comunque la cosa buffa è misteriosamente questa che cercano di far passare per una boiata alla fine ritorna sempre fuori e il mio istinto scientifico mi dice che se una teoria continua a tornare fuori un fondo di verità non può essere proprio una completa bufala quindi possiamo dire che in questa teoria si esprime l'idea che esistano delle zone di indeterminazione della lingua sì esattamente un po' come alla Heisenberg del principio di indeterminazione di Heisenberg cioè o Schrödinger il gatto di Schrödinger forse è più noto come che è contemporaneamente vivo morto finché non apri la scatola l'approccio linguistico in questo senso è interessante perché è molto elastico certo e quindi io mi trovo un po' a metà cioè io anche in Potere alle parole che è uno dei miei libri ho scritto che sicuramente la realtà influisce sulle parole perché l'uomo è onomaturgo cioè è creatore di parole è datore di nomi alle cose è uno dei suoi compiti precipui poi su questo devo raccontare un aneddoto successo a mia scuola ma lo dico fra un attimo se non mi distrago ma d'altro canto secondo me è anche visibile che in un certo senso le parole che scegliamo di usare o che magari mandiamo in disuso perché è cambiata la sensibilità perché non lo so perché è cambiata la società poi influiscono anche sul nostro modo di percepire certi fenomeni certo cioè di solito l'esempio più semplice che viene fatto è quello di quando si è iniziato un po' di anni fa a accostare il termine invasione all'arrivo dei migranti certo allora dati alla mano abbiamo bisogno di due dati qui uno il vocabolario cosa dice il vocabolario in merito al significato della parola invasione ha due grossi ceppi di significato uno è arrivo di truppe in assetto bellico e per quanto uno possa odiare l'immigrazione non può dire che questi arrivano tipo attilare degli unni con le lance sguainate o con i fucili anche se ogni tanto i telegiornali lo fanno passare così lo fanno passare così beh già appunto l'uso dei termini invasione lo favorisce certo poi altri dati l'altro grande significato è arrivo di qualcosa in una quantità tale da diventare un pericolo classico esempio invasione di cavallette certo se noi altri dati alla mano andiamo a vedere i dati effettivi sulla migrazione sui migranti il numero non è tale da poter essere definito un'invasione di cavallette però l'accostamento continuo di invasione migranti invasione di migranti invasione di migranti fa sì che diciamo nella nella vulgata nella percezione pubblica davvero ci sia questo pericolo del migrante ostile possiamo dire che al tempo stesso quella parola può essere usata perché c'è un sostrato preparato ad accoglierla assolutamente sì e su questo scusami se ti interrogo ma perché mi hai aperto due cose allora la prima l'uomo non è buono per natura ci piacerebbe ma non è così io spesso discuto di questa cosa però siccome io faccio molta educazione digitale a scuola parto sempre da questo presupposto ricordate ragazzi che l'odio è parte di noi assolutamente gli hater non sono altri i cyberbulli non sono altri noi gli zombie non sono altri in determinate circostanze gli hater o i cyberbulli o i bulli possiamo diventare anche noi no ma non faremmo mai poi nella quotidianità scopri che invece fanno delle cose di bullismo gravissime no ma no ma questo è bullismo sì questo è bullismo tipo mandare in giro la foto della ragazzina che si è chinata e si vede no il sopra del sedere ragazzi questo è bullismo ma no ma è solo una fa è appunto è solo goliardia si dice è goliardia certo è solo goliardia sì 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 allora quindi prima cosa no ricordiamoci che siamo molto duali per cui quando tu mi dici c'è un sostrato pronto per accogliere la parola invasione certo che sì l'istintiva xenofobia degli esseri umani cioè la paura dell'alieno in tutti i sensi che sia dallo spazio che sia da un altro continente che sia da un altro paese certo pensa a Guelfi e Ghibellini oppure il classico modo di dire fiorentino meglio un morto in casa che un pisano all'uscio me l'hanno citata poche settimane ecco appunto per cui siamo messi così io sono fiorentina solo di adozione quindi sono super parte allora sì cioè Telmo Pievani grande evoluzionista dice la xenofobia è insita nell'uomo certo e la si può decostruire solo con l'educazione con la cultura no? la cultura plasma il nostro cervello e può aiutarci a passare dal livello istintivo di come dire molto animale quella persona è diversa da me mi fa paura a qualcosa di più certo cioè in questo proprio è la nostra umanità c'è un bellissimo libro che sto leggendo proprio in questo periodo e peraltro è stato un consiglio involontario nella mia chat di mecenati che secondo loro io non leggo mai ma io leggo e prendo i consigli di lettura a loro insaputa il titolo del libro è A tua insaputa ed è uno studio adesso mi sfugge il nome dell'autore poi Federico guardalo così poi lo citiamo A tua insaputa ed è uno studio di psicologia comportamentale che vuole un po' rivedere la relazione fra conscio e inconscio destrutturando la visione freudiana che poi nel novecento è quella che ha dominato quindi l'inconscio sta alla base di ciò che è conscio e questo porta un sacco di fraintendimenti uno su tutti quando le cose mi vanno bene perché ho fatto le cose consciamente quando mi vanno male guarda caso è colpa dell'inconscio questo stronzo che sta dentro di me in realtà le cose sono un po' più complicate di così e all'interno di questo studio che è veramente interessante il consiglio di leggere a un certo punto viene citato un esperimento che è stato fatto mettendo da un lato un campione di persone di conservatori quindi persone che contestano l'immigrazione via dicendo l'apertura alla legalizzazione delle droghe via dicendo e delle persone che invece si definiscono progressiste qui nel campo politico opposto e queste persone vengono adesso facendo la breve breve messe di fronte a esperimenti mentali in cui si sentono più o meno al sicuro fondamentalmente gli dicono di immaginare di avere dei superpoteri che li rendano invincibili ok essi ci siamo accorti che più è ben percepito il grado di invincibilità più l'opinione diventa progressista cioè noi siamo intimamente conservatori perché dentro di noi dentro quello che chiamiamo mente conscia o inconscia c'è ancora quell'aspetto di scappare dal pericolo esiste il nostro cervello non si è evoluto quanto la nostra società negli ultimi 12 mila anni quindi ancora abbiamo comportamenti di quando stavamo nella savana e il minimo rumore era meglio interpretarlo come una tigre in agguato questa cosa qua non è cambiata ecco in questo tipo di prospettiva che io sposo appieno sempre con grande cautela c'è un grande pericolo dal mio punto di vista e il pericolo è quello di adottare una economia linguistica che porti un sacco di persone a percepire come è subito il linguaggio cos'è che voglio dire voglio dire che anche qua cito uno studio che è quello di Thaler è un famosissimo libro Nudge la spinta gentile forse è capitato nella prospettiva di Thaler che è molto interessante lui tratta l'essere umano come se fosse un diciamo così un'entità che in gran parte subisce il mondo ed è vero noi in grandissima parte subiamo il mondo e siamo consapevoli di una piccola parte di quello che ci capita e anche di quello che facciamo diciamo e speriamo e servono delle spinte gentili che sono gli altri ovvero quelli che hanno capito un po' meglio come e quale direzione prendere a doverti dare ora io qui ci vedo un grosso pericolo il grosso pericolo è quello di voler fuggire da quella prospettiva di il mostro è l'altro lo zombie è l'altro e ricaderci dalla finestra cioè dire l'essere umano tutti quanti gli esseri umani hanno il male hanno la stronzaggine hanno la violenza io ho fatto un podcast ieri sui fatti accaduti a Willy Monteiro e ho detto guardate che è inutile io devo guardarmi allo specchio e cercare sempre di individuare dove sta il mostro guardandomi negli occhi è fondamentale e quindi io nel tentativo di evitare questo pericolo dell'altro e il mostro faccio rientrare dalla finestra dicendo io sono quello che riesce a dare la spinta agli altri e quindi in realtà diventa un cane che si morde la coda e per questo è una prospettiva che io guardo con grande interesse ma con grande cautela beh scusami se ti interroppo ma è una prospettiva un po' aristocratica mettiamola così cioè nel senso tradizionale no? Qual è quella di Taller quella della spinta gentile? no ma in generale quella di dire adesso io ti spiego ti imparo le cose esatto esatto ti imparo le cose ti imparo le cose lo dico apposta sono d'accordo e non mi piace perché presume che ci siano degli aristoi appunto dei migliori non come taglio di carne ma com'è che aristoi aspetta devo fare una pausa qua perché questo merita un applauso fermo no no dai la scusata delle ore no vabbè presume che ci siano degli aristoi che ci devono dire quali sono le cose giuste da fare ora qui si entra anche nella questione della democrazia no? eh sì mi ricordo non mi ricordo quale filosofo antico non so se era veramente non mi ricordo Aristotele però dovrei sentire Mastroianni perché lo diceva lui Aligi era Aligi Aligi no no sicuramente lui no Aligi era quella di Ciomchi più avanti comunque a un certo punto dice si potrebbe tentare una forma di come si dice di governo basata sul potere dato al popolo e gli altri filosofi gli dicono ma che stai a dire ma sto scemenso ma figurati se può funzionare la democrazia poi la democrazia ce la siamo trovati un po' così è un accollo per certi versi no? e per altri versi beh per altri versi è una gran conquista per altri è molto difficile certo e lo stiamo vedendo che cosa succede tutte le volte che qualcuno sproloquia online va fuori di testa qualcun altro si alza e dice e questi votano no? bravissimo cioè in realtà è la nostra conquista che anche questi votano anche perché questi in realtà siamo noi cioè ognuno di noi ripeto nel momento sbagliato gli si può tappare la vena e fare un gran casotto decisamente sì quindi capisco quello che vuoi dire tu infatti io ho una prospettiva ancora diversa la mia prospettiva è demauriana sentiamo sentiamo tu citi filosofi io cito i linguisti e beh ci mancherebbe allora Turle De Mauro che è stato mio maestro ce l'ho conosciuto direttamente e mi ha cambiato la vita direi lui per tutta la vita ha mandato avanti l'idea della cosiddetta educazione linguistica democratica cioè lui diceva un po' alla maestro Manzi e un po' ancora alla Don Milani se vogliamo ricostruire il pensiero che noi dobbiamo dare a tutti gli strumenti linguistici per comprendere la complessità della realtà perché in realtà senza gli strumenti linguistici tu perdi degli strumenti cognitivi certo ok? ora questo richiede un enorme investimento sull'educazione vuol dire per esempio portare in qualche modo la sociolinguistica nelle scuole certo sociolinguistica nel senso di farsi domande come perché parliamo che cos'è una lingua come funziona un codice perché perché uso questa parola perché uso come siamo arrivati a questa parola questo si fa poco a scuola noi facciamo tantissimo esercizio tecnico no? per cui la grammatica l'ortografia no? per cui se tu scrivi poco l'accento sei un asino no? se tu scrivi qual è con l'apostrofo devi morire male cioè c'è la gente che si augura la morte online per il quale è apostrofato che fra l'altro era usata anche da Pirandello Pirandello scriveva qual è con l'apostrofo quindi andate ora a esumare la salva di Pirandello per sputargli negli occhi non fatelo però non fatelo non fatelo non seguite il consiglio di Vera in questo caso non fatelo no ma perché appunto capite quanto siamo sciocchi che ci stiamo a fare la guerra sul quale è apostrofato con o senza apostrofo no? cioè per me è una prospettiva insulsa certo facciamo le battaglie inutili diciamo così e poi inutili un po' superficiali forse cioè identifichiamo con la correttezza ortografica l'intelligenza di una persona usiamo l'ortografia come cartina tornasole dell'intelligenza di una persona non è detto io vorrei ricordare che uno dei più grandi scrittori americani del novecento William Faulkner era di fatto un mezzo sgrammaticato perché aveva l'editor a fianco che doveva sempre mantenergli sotto controllo il linguaggio e ha scritto fra i più grandi capolavori della storia io ti faccio un controesempio Luigi Meneghello viene passavo c'era il cartello malo e ho pensato subito al bellissimo Libera Nossa Malo era scriveva degli inserti dialettali per cui alcune persone pensavano che fosse incolto ed è il fondatore della facoltà di linguistica di Reading in Inghilterra cioè uno che ne sapeva a pacchi per cui anche lì la distanza fra la percezione e la realtà vibra l'anima ne al cielo si defonda di virtù quando lui non capisce i versi che è vibra l'anima al cielo e lui capisce che c'erano questi vibralani mani al cielo è il Libera Nossa Malo e quindi c'è tutto il pezzo dove lui pensa a questi vibralani come esseri superiori lo ho letto troppo tempo fa lo ho letto troppo tempo fa mi viene in mente scusa salto di palo in frasca ci mancherebbe siamo qua per quello darai un senso a tutto questo nella stessa ottica c'è un bellissimo libro di Tullio De Mauro che si chiama Parole di giorni lontani e che parla della sua infanzia e adolescenza a Napoli perché lui è cresciuto a Napoli e le prime volte che lui sentiva uno dei tanti canti fascisti che era perbenito Mussolini eccetera eccetera e lui perbenito pensava fosse un participio passato voce del verbo perbenire perbenire racconta questo episodio e anche questo ci dice molto sul suono sulla percezione comunque l'infinito di leopardi leopardare allora cosa diceva comunque Tullio De Mauro capisci che ha questa visione diamo alle persone gli strumenti non è una questione di nudge dal mio punto di vista è una questione di te devi far culo certo e tutti tutti nessuno escluso non uno di meno questo è un po' il principio di Tullio De Mauro che io cerco di applicare poi è ovvio che volendolo applicare mi pongo un po' nella nella posizione di dire ti insegno cose ma cerco di farle il meno possibile cerco di far capire cose cerco di nel mio lavoro di divulgazione quello che io faccio è cercare di far capire che conoscere meglio la propria lingua è una figata pazzesca sì sì assolutamente cioè è la cosa che mi ha salvato dall'essere tappezzeria lo raccontavo ieri cioè qual è il mio superpotere non è il seno è saper parlare trovare il il registro giusto a seconda della situazione in cui mi trovo certo no cioè ma questo è complicatissimo come si fa con un po' di attenzione curiosità cioè ai miei ragazzi ai miei ragazzi nel senso ai miei studenti faccio sempre questo esempio cioè se domani andiamo in birreria e voi mi sfidate a dire Wyoming a Rutti io ci sto anche se ho 44 anni sono madre di famiglia no professoressa è così però se dopo domani andiamo dal presidente della repubblica io mi trovo a mio agio anche lì certo cioè il mio superpotere l'intelligenza è la lettura del contesto cioè adottare il linguaggio per il contesto e per fare quello devi avere tanti linguaggi a disposizione e quindi io sono pienamente d'accordo quando hai detto cioè nel senso che la prospettiva di De Mauro se tu togli parole tu togli mondo cioè tu togli possibilità di relazione a me viene in mente io sono molto legato un autore che non so se conosci però Lovecraft l'autore del ok richiamo di Cthulhu perfetto eh io non lo so bello ah me scusi me scusi a parte che ho quasi dieci anni ho più di dieci anni più di te aspetta tu dai sei 87 ok ho dodici anni più di te capito ma questo è agismo ok io sento sento dell'agismo nei miei confronti potrebbe essere al contrario comunque no Lovecraft ho passato la fase innamoramento per Lovecraft ecco Lovecraft io sono innamorato perché è la dimostrazione che il linguaggio è qualcosa che ti salva letteralmente la vita perché lui voglio dire lui soffriva di incubi devastanti e quando scriveva scriveva nel tentativo di spiegare qualcosa che era convinto le parole consuetudinarie non potevano spiegare lui era convinto che se lui avesse spiegato i suoi incubi usando la parola angoscia ciò che l'altro avrebbe capito non sarebbe stato neanche lontanamente la sua esperienza soggettiva e quindi si inventa Azatot si inventa Cthulhu e via dicendo ed è da lì che io ho cominciato a nutrire l'idea che debba esserci qualcosa alle spalle per poter innestare una parola poi di nuovo lì siamo nel campo dell'arte ma se vogliamo prendere un campo politico se vogliamo prendere un campo sociale a me vengono in mente i grandi tentativi di manipolazione del linguaggio da parte della politica pensa soltanto a quello che ha cercato di fare il fascismo in Italia migliaia di parole inventate quante ne sono rimaste tre tramezzino autorimessa mescita no forse a dieci arriviamo una decina una decina le contiamo su due mani su migliaia di tentativi e perché perché sono state adottate in realtà non possiamo concludere che siano state adottate perché qualcuno ha deciso ok ma perché hanno trovato la realtà in cui innestarsi perché andavano bene perché funzionavano tramezzino funzionava anche più di sandwich magari poi in realtà tramezzino è un tipo è un iponimo i tramezzini sono quelli che l'Enel oggi ci ha ucciso nel frigorifero staccandoci la corrente per otto ore diciamolo sono anche specialità della zona i tramezzino morbido Enel guardami negli occhi Enel ci devi dei tramezzini ci devi dei tramezzini perché non è però vabbè cosa vediamo l'ombra adesso vabbè comunque dicevo è vero e per questo io vorrei porre adesso l'attenzione su un tema che tu discuti molto spesso che è quello dell'inclusività linguistica ora nel tema dell'inclusività c'è grande dibattito perché perché di nuovo c'è questa polarizzazione in cui da un lato c'è gente che dice eh no ma in realtà non c'è non c'è il contesto adatto e via dicendo altri invece che dall'altra parte dicono no ma con il linguaggio si può fare qualsiasi cosa e nel frattempo mi sembra che siamo di fronte a un impasse perché perché se si cerca di creare consenso in questa cosa secondo me non ci si sta riuscendo e le proposte che sono emerse di volta in volta hanno dal mio punto di vista un grande difetto il difetto di essere praticamente inapplicabili dal punto di vista della quotidianità l'apostrofo l'asterisco per esempio ok l'asterisco può essere un segno grafico che io personalmente non sono mai riuscito a guardare cioè io proprio non riesco non riesco infatti io preferisco fare tutti e tutte piuttosto la doppia forma esatto la doppia forma anche molto spesso parlando nel podcast dico questo quando mi rivolgo alla community che è 30% donne circa 70% uomini io cerco di dire tutti e tutte io l'asterisco faccio fatica lo comprendo dal punto di vista grafico dal punto di vista del parlato non saprei come tradurlo e è emersa una proposta che comunque ti vede coinvolta io non credo sia stata tu a proporla ma tu l'hai in qualche modo fatta emergere a tua a tua insaputa grazie a quell'articolo terrificante che è emerso ok che è quella della schwa ora la domanda che ti faccio è dal punto di vista di una sociolinguistica di una sociolinguista sono diventata tutta la materia sei la sociolinguistica sono diventata la sociolinguistica ok il mio ego ti ringrazia di una sociolinguista quali sono i presupposti politici e sociali per far sì che una proposta di questo tipo riesca a sopravvivere i prossimi dieci anni ma allora qui devo fare devo fare una ricostruzione ci mancherebbe devo fare il plastico di Bruno Vespa benissimo va bene volevo dire ricomporre l'infranto di Bergson ma va bene anche il plastico di Bruno Vespa no io ce li vedo proprio Bruno Vespa che mette allora qui abbiamo non salve buonasera esatto quella roba lì devo fare un passo indietro forse si è capito che io ho un occhio di riguardo per la sperimentazione per cui cioè quando vedo comparire un termine che arriva dall'inglese o un termine che arriva dal giapponese no ikigai la cosa che ti fa alzare tutte le mattine fighissima se ne parlavo un sacco durante il lockdown io arrivo tipo nibbio a studiare sta cosa allora ho scritto un libro che si chiama femminili singolari e il sottotitolo è il femminismo nelle parole che è subito un po' un calcio nei testicoli delle persone cioè è un po' è un po' estremo eh l'abbiamo scelto ovviamente anche per fare un po' di casino no con la casa editrice la casa editrice è FQ che è una casa editrice che specificamente ha una collana che si chiama saggi pop e però questo ti dovrebbe già porre no non è coso treccani cioè è saggi pop molto molto sì ma infatti io l'ho letto è molto molto catchy quello parte da una mia esperienza personale cioè io ho fatto per sette anni la gestrice del profilo twitter dell'accademia della crusca e in quel ruolo ogni volta che dovevo twittare della questione dei femminili professionali perché poi avevamo una presidente donna abbiamo avuto per un po' di anni Nicoletta Maraschio prima presidente donna dell'accademia della crusca e al momento unica speriamo nei prossimi eh poi c'erano le visite di Laura Boldrini quindi quando poi arriva la politica la cosa si complica no non è più una questione linguistica ma è una questione linguistica e politica inevitabile ok e quindi diventa istanza di una parte e non di tutti vabbè cosa succedeva succedeva che mi prendeva un sacco di rusco ma arrivava addosso di tutto certo e allora dovete chiudere avete tradito l'italiano eccetera allora questa è la prima premessa allora cosa ho fatto siccome io sono un po' passiva aggressiva dentro io ho screenshotato tutti questi commenti e poi li ho messi da parte perché anche potevo rispondere blastando la gente anche perché io sono intimamente contrari a blastare la gente questa è una cosa che mi mette in contrapposizione con Matteo Flora tutte le volte invece io e te siamo molto in sintonia perché io nel mio libro ho scritto un articolo contro il blastaggio quindi no perché tutta la vita siccome io ho una prospettiva didattica generativa il blasting è tipo cosa guerra nucleare cioè lasci il vuoto nessun blastato cambia idea e si mette a studiare per cui siccome a me interessa che tu tantomeno quelli che osservano l'atto del blastaggio esatto ma quelli infatti è tipo l'atto tribale no lo scimpanze è che si percuote diceva 2001 c'è uno spazio e le ossa e tutti abbiamo eletto il nostro eroe questo andava detto seconda cosa femminili singolari mi ha portata in contesti in cui io non ero mai stata prima del libro perché non mi ero mai espressa come femminista ok ci ha voluto una certa età ci sono volute anche una serie di esperienze francamente di disagio nel mio essere donna in ambito lavorativo tutto il resto lasciamo stare però come lavoratrice allora scrivo sto libro e inizio a entrare in consessi che prima non conoscevo molti gruppi femministi collettivi eccetera eccetera e lgbtqy plus che cosa succede? succede che parlando della questione che ovviamente in quel contesto trova molto gancio insomma è un plauso chiamiamolo così molto spesso a fine conferenza arrivava qualcuno e mi diceva io però non sono binario o non sono binaria cioè non mi identifico né col maschile né col femminile come faccio? perché a me sì bello assessora bello questora bello la presidente bello minatrice bello ministra ma io e io che non mi sento avere un genere come faccio con l'italiano che ha solo maschile e femminile? ora 99% delle persone forse avrebbe detto ma chi se ne frega siete quattro gatti cioè statece no come si dice a Roma siccome io ho un po' sta gagna di capire le cose io questo disagio sta gagna? la gagna? sto desiderio no? la fotta la fotta sì esatto la fotta è proprio brutta il mio gergo giovanile ecco la fotta non lo sentivo da 87 credo ecco perché non sono nato vedi 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 comunque siccome queste cose mi attraggono sai cosa ho iniziato a fare ho iniziato a registrare come avevano risolto il problema a livello di gruppo cioè nel vostro gruppo come fate allora noi usiamo l'asterisco quindi quando mandiamo nella mail alla mailing list c'è scritto car asterisco tut asterisco noi usiamo la barra car barra tut barra noi usiamo niente quindi tagliamo le parole car tut siete tut benvenut e così via alcuni usano la u alcuni usano la x che si usa anche aspetta come era per esempio per latinos e latinas c'è latinx latinx è vero niente ha un problema che non si pronuncia quindi quando io leggo car asterisco tut asterisco o car chiocciola tut chiocciola il mio cervello che tendenzialmente leggerebbe ad alta voce anche quando legge fra sé se si incarta e allora io scherzando ho detto cavolo abbiamo lo schwa poi è maschio lo schwa nel dizionario è lo schwa non è la schwa facciamo le schwa no lo schwa è lo signor schwa schwa che viene è una parola tedesca è italianizzata anche in schwa però io uso il tedesco perché l'ho imparato così allora la parola viene dall'ebraico forse che vuol dire zero in sostanza nulla e cos'è? è un simbolo fatto come una piccola e rovesciata una e capovolta che indica la vocale media per eccellenza ok cioè per fare tutte le altre vocali tu devi deformare la bocca no? a e i o u per fare lo schwa un po' alla Homer Simpson non devi fare nulla quindi esatto ok allora non si può pronunciare asterisco lo schwa sì perché poi è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale quindi come si pronuncia car tut car tut siete tut benvenuti io ho ascoltato la chiacchierata che hai fatto con Barbaroffa mi ha fatto morire perché effettivamente è termolano cioè nel senso è napoletano poi in realtà c'è anche in termolese aspetta è termolano o termolese? termolese mi insulterà Arnaldo mi insulterà ma va bene termolese salutiamolo ciao ciao allora questo era il tenore della proposta sì ok detto in questi termini mi era venuto perché perché se ci pensi a livello sia formale sia logico il fatto che sia il simbolo che identifica una vocale media certo funziona anche a livello di accostamento con l'idea di non pronunciamento di genere certo quindi una medietà di genere però questo è quanto sì 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 io l'avevo buttata lì in femminili singolari sono dedicate credo due pagine una forse non lo so poche righe che cos'è succede questo molti hanno iniziato a dire figata questo schwa cioè funziona nel senso finalmente quando leggo una cosa dico benvenuto ovviamente è una questione che riguarda dei gruppi molto ristretti molto specifici e mai nemmeno in my wildest dreams avrei mai detto proponiamo questa cosa per cambiare la lingua italiana perché ovviamente dal linguista so che non funziona così ok che cosa è successo è successo che è una serata romana a fine luglio io ho parlato in questi termini di questa cosa però dicendo è uscito adesso per FQ un volume di una femminista brasiliana che si chiama Marcia Tiburi di cui al momento veramente mi è scappato il titolo eh non mi verrà mai ok se ti viene in mente dopo aggiungicelo sì 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 ma perché ce l'ho qui sulla punta della lingua e proprio non mi viene vabbè comunque lei usa quando parla di tutti dice todos todas e poi usa una terza forma che è todes ok per includere anche i non binari certo ok allora FQ a lungo si è chiesta come rendiamo questa cosa in italiano e alla fine hanno deciso di usare lo schwa ok e quindi in quattro posti nel libro c'è scritto tutti tutte e tut ok per includere tutti proprio tutti quanti allora io ho parlato di questa cosa ma come l'ho detta a te certo viene fuori quello del zeviro meraviglioso quel fondo prima pagina sulla stampa forse sul corriere non mi ricordo non mi ricordo non quello di Feltri di Mattia Feltri si dove era non era venuto fuori sul giornale no perché è Mattia che tiene la rubrica che prima era il caffè il buongiorno forse era forse era il corriere ormai l'ho dimenticato non importa che intanto mi chiama accademica della Crusca e questo è tipo come dire sacrilegio perché non sono mai stata accademica ho lavorato per vent'anni con la Crusca ma solo da collaboratrice da che poi la reazione di l'esa maestà della Crusca vabbè ok quella lasciamo è partito male vabbè è stato un po' sgradevole però intanto mi chiamo così e poi dice pensate c'è questa accademica della Crusca che su Facebook dice che bisogna inserire un terzo genere in italiano questo a casa mia si chiama stromano argument si chiama argomento fantoccio perché tu hai estremizzato la mia posizione fino a renderla ovviamente irricevibile certo cioè sembro la cretina che va in giro a dire cambiamo le declinazioni dell'italiano ma sono un po' troppo linguista per pensare che questo sia possibile però succede una cosa altrettanto buffa allora quando c'è una polarizzazione e tutti tendiamo a metterci da una parte o dall'altra io ho ricevuto anche tantissimo plauso quindi involontariamente sono diventata contemporaneamente la persona più odiata da tutti quelli che si oppongono in assoluto all'inclusività e la più amata da quelli che invece lavorano per l'inclusività e sono diventata eroina a mia insaputa perché io non sono così eroica io ho solo detto ma c'è sto schwa potrebbe essere una cosa buffa ma come dico che mi piace cringiare o che mi piace lol capito? questo è un argomento che io ho trattato varie volte siamo all'interno di un dibattito pubblico talmente esacerbato esacerbato un'altra bellissima parola che bisogna usare molto di più che bisogna stare attenti perché persino la cosa che dici per scherzo può essere presa come una roba fuori di testa alcuni mi hanno quando io ho detto ma io non ho mai formulato l'idea che dobbiamo usare lo schwa come terza declinazione o addirittura a sostituire maschile e femminile sì l'hai detto dove mi mandano uno screenshot di un mio tweet perché le teorie scientifiche si fanno su twitter è evidente allora e c'era sto tipo che rispondeva a 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 allora io avevo scritto sotto l'ho sempre detto che bisognerebbe usare lo schwa ma a me è chiaro il contesto esatto che poi la vera vittima di questa di tutta questa vicenda è il povero asterisco che non ha mai fatto male a nessuno ma povero io non ho mai visto un segno di interpunzione così maltrattato nel corso della storia vabbè no questa è non è neanche un segno di interpunzione è proprio un segno grafico e poi per chi ha fatto programmazione è il jolly il carattere jolly per cui c'è anche questa sovrapposizione questo però è caruccia noi siamo figli del dos dell'elite asterisco punto asterisco che potevi fare come dire poker dell'hard disk vabbè comunque detto questo io però so anche un'altra cosa che è questa una volta che il dibattito è stato posto in maniera così distorta è praticamente impossibile raddrizzarlo io posso fare 47 podcast con i maggiori podcaster italiani posso andare a tutti i telegiornali ma una parte delle persone rimarrà convinta che qualcuno ha detto che dobbiamo abolire maschile e femminile e usarlo perché il rendere così irricevibile una teoria ti mette un po' al sicuro sì sì certo quindi non ho bisogno di discutere perché è proprio una stranciata e di nuovo quello che diciamo prima tu ti senti in pericolo per un cambiamento esatto diventi automaticamente conservatore perché questa cosa ti è irricevibile questo è proprio questa proprio non si può sentire ecco perché ti dico che lo so perché io sono dietro anche a Petaloso cioè quando ci fu Petaloso nel 2016 io ero ancora la gestrice del profilo Twitter e poi eravamo un pool puoi raccontare storie incredibili Stefania Iannizzotto che oggi gestisce sia Facebook che Twitter all'epoca gestiva Facebook e poi c'è Cristina Torchia che è la persona che ha scritto la risposta al bambino Matteo però a me è arrivata la notizia che qualcuno aveva twittato sta roba e quindi rilanciando quel tweet ho scatenato l'inferno cioè io ho fatto da miccia per così dire allora io sono io da anni da allora dal 2016 che da allora e in continuazione dico Petaloso non è entrato nei vocabolari la crusca di mestiere non fa vocabolari fra l'altro l'ultimo l'ha interrotto nel 1923 e da allora non ne ha più fatti la crusca non ha il potere di decidere se una parola è giusta o sbagliata ha semplicemente detto bisogna che venga usata certo niente ogni volta che vado in giro eh però voi siete quelli che avete messo Petaloso Petaloso per cui adesso per i prossimi 15 anni mi aspetto che mi continui a dire eh ma tu hai detto che bisognava abolire maschile e femminile no non ho detto questo ho detto un'altra cosa ho detto se ci sono gruppi che nel corso degli ultimi dieci anni hanno cercato almeno in 15 forme diverse di porsi la questione di andare oltre il maschile e il femminile io raccolgo questa istanza che ha un valore socioculturale più che linguistico certo capito? sì sì cioè per me l'idea di inserire lo schwa nella grammatica italiana è peregrina come l'idea di di inserire che te posso dire una parola appunto flexare nel vocabolo flexare nel vocabolo azzatot ecco nei riti ecumenici esatto cioè è una palese idiozia sì 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 capito? quindi posso dire un'ultima cosa? ci mancherebbe sei qua per quello sei qua per quello no perché secondo me non sei abituato a gente che ti interrompe guarda che io sono qua per ascoltare sono qua per ascoltare e ogni tanto rompere le balle quindi vado avanti ad ascoltare ok aspetta un pelo di gatto perché me li sono portati da casa ecco c'è un'altra cosa ho un problema con la definizione di cioè con l'idea stessa di inclusività ok perché inclusività è una parola che sottintende che ci sia qualcuno che si prende la briga di includere gli altri cioè sì una parte migliore in qualche modo è vero che dice ti includo via ti includo dai vieni con noi smetti di starli da solo allora è la stessa cosa è lo stesso disagio che io se trovo sento nell'usare la parola tolleranza la tolleranza implica che ho torto collo tollero quello che tu sei ma non è che lo stimo o magari non è che neanche voglio averlo troppo vicino però lo tollero no? quando io sento inclusione mi chiedo sempre ma è la parola che dà la soluzione? perché vuol dire che c'è una maggioranza che a fatica include delle minoranze in sostanza c'è un mainstream che si prende in carico quello che non è un mainstream allora io ho conosciuto poco fa non tantissimo tempo fa qualche mese fa uno scrittore molto bravo tra l'altro è un musicoterapeuta eccetera Fabrizio Acanfora non so se lo conosci di nome non ho percepito lui è un autistico e lui anzi non vuole essere chiamato persona con autismo lui dice io sono un autistico l'ha capito molto tardi l'ha capito da grande prima era solo matto cioè socialmente come si dice non a suo agio con tic strani solo a 35 anni ha scoperto che il suo era autismo e questo lo racconta in un altro libro molto bello di FQ che si chiama Eccentrico e che ha anche vinto premio divulgazione un paio d'anni fa cioè è un libro veramente bello e ve lo consiglio anche perché si legge come acqua fresca allora Fabrizio ultimamente a sua volta ragiona sull'inclusività da autistico ovviamente gli autistici hanno grossi problemi per esempio sul lavoro perché cioè prendersi in carico no c'è il problema dell'inclusività dell'autistico certo c'è il problema più che altro di rendere diciamo così di creare delle procedure che siano adatte sì ma anche lui dice l'autistico è trattato come un malato mentre è una dal suo punto di vista è una situazione di vita una caratteristica no e ci sono dei lavori in cui lui sarebbe adattissimo e l'autismo non sarebbe assolutamente un problema esattamente come uno com'è che lo definisce lui oddio non mi viene la parola neuro cioè che è normale dal punto di vista neurologico non mi viene il termine scusami Fabrizio ma non mi ricordo tutto lui ha scritto un saggio che è disponibile sul suo sito che è Fabrizio Acanfor appunto quello che è insomma si trova dove dice invece di inclusione dovremmo parlare di convivenza delle differenze convivenza con le differenze no cioè prendere atto che ormai la società è così complessa in tutti i tagli etnici religiosi appunto di come si può dire tutto ciò che devianze neurologiche che poi devianze non sono perché sono condizioni quindi è disabilità donne uomini tutto quello che vuoi tu che parlare di inclusione è castrante in realtà dovremmo parlare di imparare a convivere con le differenze è una prospettiva molto bella molto complessa allora io il termine inclusione l'ho sempre visto come sono io che ti includo è un po' come ti presento i miei ti includo nel cerchio della fiducia ok cioè sono io che in qualche modo apro il mio orizzonte ti dico questa prospettiva è interessante perché io ad esempio da persona totalmente aperta da sempre io sono vissuto però in un paesino molto chiuso questo è un episodio che ho già raccontato varie volte su Daily Cogito ma io non sto parlando con voi sto parlando con lei quindi adesso lo riracconto e voi ve lo sorbite di nuovo dicevo sono cresciuto in un paesino dove letteralmente c'era una ghettizzazione perché eravamo tutti italiani e poi c'era il quartiere con i bosniaci il quartiere con i magrebini e via dicendo ok io non ho mai avuto una relazione con loro se non con un paio a scuola ma molto distante eppure sono cresciuto comunque in maniera non certo non sono mai stato razzista né discriminatorio e via dicendo eppure mi sono accorto quando abitando a Padova all'università mi sono trovato in un condominio praticamente con solo stranieri ho trovato mi sono trovato a vivere però inconsapevolmente nel senso non mi rendevo conto della distanza che mettevo fra me e loro fin tanto che non mi sono chiuso fuori dall'appartamento all'ora di cena senza coinquilini e i miei dirimpettai che erano turchi mi hanno invitato a cenare da loro hai mangiato una delle scene migliori della tua vita ma poi ci siamo fattenuti una chiacchierata incredibile e sono tornato a casa dicendo ma che coglione sono stato ma cavolo tutto il pregiudizio che avevo che era un pregiudizio diciamo prima ok noi nasciamo con quel tipo di predisposizione non c'è nulla da fare nessuno nasce non razzista si diventa non razzisti si diventa antirazzisti e quindi io mi sono sentito io ho sentito cioè il termine inclusione secondo me può funzionare fin tanto che non è qualcuno che ti include dentro una comunità quello è paternalismo che entra dalla finestra ma sono io che dico all'interno del mio orizzonte di normalità includo anche te nella mia idea di familiarità ora ci sei dentro anche tu quindi sì però sicuramente c'è un connotato paternalista quando si parla politicamente di inclusione e io qui vorrei aprire una questione che tu hai accennato prima tu prima hai detto una cosa che è importantissima quando entra la politica va tutto a merda non l'hai detto così ma era questo sì sì ma no lo sottoscrivo quando entra la politica tutto si complica si complica si complica allora la domanda che ti faccio è questa ora noi abbiamo capito che nell'ambito della com'è che l'ha chiamata non inclusività ma convivenza con le differenze tu ci lavori passami il termine scienziata della lingua tu studi la lingua vedi come funziona l'analizzi e via dicendo io la guardo dal mio punto di vista quindi dalla filosofia dalla storia del linguaggio e via dicendo e noi guardiamo per curiosità ok e questa cosa è molto feconda perché perché poi è da lì che nascono i cambiamenti i cambiamenti effettivamente nascono quando un certo numero di persone che si occupano più o meno professionalmente artisticamente di un certo fenomeno riescono a innestare nell'ambiente socio-culturale le condizioni affinché un cambiamento si verifichi e il 99% di cambiamenti immaginati non avvengono ma l'1% riesce a mutare qualche cosa accade però ogni tanto che la politica entra e la politica quando entra fa più o meno l'effetto del blastaggio di cui parlavamo prima cioè rischia di far chiudere immediatamente qualsiasi possibile dialogo e questo io prima ho detto quando parlavi del blastaggio ho detto tutti quelli che guardano intorno purtroppo finiscono dall'altra parte quando vedono lo scienziato l'esperto che blasta il povero mona che magari dice una cazzata effettivamente ma tutto quel popolo grigio di indecisi di non sicuri di ascoltatori che non ti dà feedback si allontana ecco io ho la percezione che questo tipo di 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 curiosità a livello linguistico stia avendo delle derive e questo avviene non solo in Italia ma avviene anche in altri paesi occidentali gli Stati Uniti stanno avvenendo delle cose che sinceramente ogni tanto mi fanno dire ok aspetta un attimo e ciò rischia di ghettizzare quei cambiamenti perché è vero che c'è un piccolo ma prezioso gruppo di persone che non si sente rappresentato da quella da quell'altra parte da quella parola da quell'espressione e che è degna di essere ascoltata deve essere ascoltata bisogna riconoscere la sensibilità dall'altra parte però mettendo insieme questo fatto che è comunque una minoranza abbastanza esigua e dall'altra parte la politica sta inghiottendo questo tipo di dibattito tu rischi uno di ghettizzare quelle persone quel linguaggio verrà usato solo da loro e aumenterà la sensazione di eccentricità negativa nei loro confronti in secondo luogo esenterà la politica dal fare quello che la politica dovrebbe fare che non è cavalcare i cambiamenti sociali ma è quello di lavorare sulla cultura dare strumenti ai ragazzini per avere più parole più soluzioni più espressioni e via dicendo e questa cosa perché io ad esempio mi sento sono sempre stato molto molto aperto nei confronti io ho fatto anche un podcast con una persona transessuale qualche tempo fa abbiamo avuto un dialogo bellissimo e io ho ricevuto un sacco di messaggi di gente che mi fa ma io pensavo che tu fossi se tu fossi ma hanno detto tutti i tuoi colori invece no hai dialogato apertamente sì ma certo perché perché fare un certo tipo di discorso che non va a sposare quella quel connotato politico poi ti fa percepire in modo sbagliato ed è quello il movimento della ghettizzazione sono d'accordo ma ci dobbiamo fare in questo senso secondo te cioè veramente io mi trovo a dire ok e mo che si fa allora di nuovo hai posto un problema veramente multilivello allora il primo è la linguistica ha un problema in più forse rispetto ad altri ambiti scientifici perché comunque è una scienza al di là del fatto che molti pensano che sia tra luce e vino ma è una scienza beh il metodo il metodo la rende vicina a un linguaggio scientifico certo comunque al di là di quello il fatto è che molte persone pensano di essere linguisti perché parlano una lingua invece fare essere linguisti quindi fare un ragionamento metacognitivo su una lingua e parlare una lingua c'è differenza certo poi esiste quello che anche De Mauro spesso definisce il linguista ingenuo cioè quello che magari fa le pari etimologie no le etimologie popolari queste sono cose bellissime Bergonzoni per me è l'immagine della sì no ma anche ma anche proprio la nonna no ok ho capito ancora per esempio per esempio c'è un detto che mia nonna usava spesso che era porco pulito non fuma il grasso che cioè il maiale si deve sporcare per ingrassare se è pulito rimane magro però siccome porco le sembrava già una mezza bestemmia allora lei l'aveva ritrasformato in corpo pulito ok e aveva completamente stravolto il senso del modo di dire no e queste sono le pare etimologie sono le cose del genere non c'è nulla di male se tutti ragioniamo sulla nostra lingua però c'è un punto davanti al quale chi non ha studiato una certa materia non si arroga il diritto di parlare in termini scientifici certo parlo forse di astrofisica io no come diceva Nanni Moretti cos'era eccebombo forse era eccebombo quando si arrabbia no le parole sono importanti però appunto lui dice parlo forse di astrofisica nel senso tutti possiamo guardare le stelle e dire uh c'è alfa centauri lì però non è che possiamo no quindi ecco prima cosa riconosciamo di avere dei limiti teorici primo seconda cosa la curiosità la curiosità non è istintiva perché è in opposizione anche alla rinitenza al cambiamento che è tipica dell'essere umano diceva Douglas Adams che dopo i 35 anni diventiamo tutti reazionari e questo si vede bene in ambito linguistico c'è la gente che ancora adesso si incazza come una bicia per Apericena Apericena l'anno scorso ha compiuto 18 anni tra un po' c'è il motorino cioè ancora stiamo a rovellarci su Apericena che poi al massimo non incazzarti fatti una risata appunto non lo usare ma io dico sempre non ti piace Apericena non lo usare io uso Apericena per prendere in giro i miei amici milanesi ma sì mai mi incazzerei i torinesi hanno la merenda sinoira cioè la merenda questa mi manca la merenda sinoira è la Pericena tradizionale quindi viene tutto da lì è che appunto voglio fare la fighetta dico andiamo a fare la merenda sinoira cioè suona anche molto meglio comunque a me non dà fastidio Apericena perché identifica qualcosa certo quindi la curiosità va coltivata e anche qui cioè noi possiamo essere curiosi senza per forza dare un giudizio certo e questa è l'altra cosa non sputiamo sentenze pensiamoci un attimo la terza cosa secondo me l'unico modo di non estremizzarsi è quello di studiare la questione sia da un punto di vista diacronico cioè storico sia da un punto di vista sincronico cioè cosa sta succedendo in questo momento quello che io vedo anche da parte di chi in buonissima fede porta avanti questa come una battaglia certo è a volte per esempio la mancanza della storicizzazione no per cui sia facciamo questo e quando uno è superficiale cioè quando uno porta avanti un pensiero che giudica anche corretto ma non l'ha studiato fino in fondo rischia di di cadere dall'altra parte dell'asino un po' come è successo con la questione di Adele che è stata accusata di aver fatto cultural appropriation appropriazione culturale perché sarà fatta i nodini in testa che sono tipici di non mi ricordo quale paese africano no non era giamaica no era qualcos'altro era forse era che hanno un nome che non mi ricordo tipo nodo nigeriano o nodo hanno un nome così ma non me lo ricordo però va la bandiera giamaicana addosso sì perché era il Notting Hill Festival ecco vedi vedi ecco già il contesto quindi questa era una persona americana che siccome lì la questione della cultural appropriation è molto più sentita la stava applicando a una persona inglese nel contesto del Notting Hill Festival che è proprio il trionfo del melting pot se vogliamo così ecco quella è la classica sciocchezza secondo me che esaspera anche chi sarebbe aperto al dialogo cioè nel senso va bene allora parliamo di che cosa sia l'appropriazione culturale non lo dico io lo diceva per esempio mi pare Ijabascego mi sembra di aver letto sul suo facebook che insomma non è che siccome sono sono afrodiscendente condivido questa visione che a Del non si possa fare i nodini in testa è certo anche perché poi c'è tutta una tradizione nel wrestling femminile dove si fanno questi nodini per non potersi afferrare per i capelli per cui insomma la storia cioè bisogna contestualizzare bisogna capire come si è arrivati a un certo tipo di fenomeno esatto e quello che io vedo accadere con queste derive no con quello che adesso viene chiamata cancel culture su cui però so troppo poco per cui non mi voglio esporre più di tanto però le vedo come delle derive magari in buona fede certo però si arriva a degli assurdi sì 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 ho tempo per un aneddoto personale hai tutto il tempo che vuoi voglio allora che noi sappi che noi se volessimo potremmo andare avanti fino alle mezzanotte senza problemi per me non c'è problema solo che poi alle nove ci abbiamo l'evento ma guarda abbiamo ancora tranquillamente una mezz'ora torniamo allo spacco bottiglia mazza famiglia io racconto spesso questo aneddoto perché è personale io ho insegnato per alcuni anni in un'università americana ma in Italia no quindi erano ragazzi americani che venivano a fare una sorta di master ed era a propria insieme culturale quella no io vengo accusata a volte di appropriazione culturale perché sporca ungherese ci insegni l'italiano però in realtà sono nata in Ungheria ma sono ho due nazionalità quindi vabbè comunque però mi fa sempre ridere sta cosa sporca ungherese perché poi le ungheresi in particolari sono conosciute nel mondo ahimè per una arte molto antica e quindi spesso mi viene fatto notare che vabbè che mi sarò fatta avanti a colpi pelvici ecco questa è una delle cose sgradevoli le cose molto sgradevoli esatto comunque detto questo allora una delle mie ragazze del gruppo era una afroamericana sì aveva fatto una bellissima ragazza con dei capelli che io le invidiavo tanto perché avendo io degli spaghetti quattro spaghetti ritti in testa cioè io mi alzo così la mattina c'è proprio il cappello così è piombato ok e ogni tanto qualcuno tenta di farci un ricciolino non ci sta quindi le teste afro mi piacciono tanto un giorno arriva con una di quelle pettinature complicatissime che puoi fare solo con i capelli afro con dei intrecci cose e io le dico bellissima pettinatura che invidia mi piacerebbe avere la possibilità di fare una pettinatura del genere è venuto fuori che questa persona poi è andata dal person in charge insomma non mi ricordo se era presidente del corso o quello che è a dire che lei si era sentita vittima di un attacco xenofobo ok cioè che io l'avevo insultata per i capelli afro la mia reazione è stata ma che stronzata ma io io che sono certo mi batto contro il razzismo mi accusate ma che è sta stronzata sono tornata a casa molto colpita certo anche offesa certo però poi ho fatto un ragionamento che ha riportato dentro livelli accettabili il mio grado di essere di offesa io non sono nera ok io non so come si sente una donna nera a cui magari per tutta la vita sottolineano l'elemento dei capelli cioè non so quanto sia come si può dire parte della sua autodefinizione del suo contesto di quello che lei è l'elemento dei capelli non so quanto conti perché per me bianca eterosessuale cisgender tranquillona il capello è solo una roba estetica ma forse per una donna di colore no ok allora io non posso del tutto mettermi nelle scarpe di quello che ha provato questa ragazza questo è impossibile e quindi ho tenuto aperto uno spiraglio cioè nella mia indignazione esagerata ho detto forse non posso al cento per cento dire che lei ha esagerato forse devo prendere atto che non ne so abbastanza perché effettivamente non sono nera allora qui questo è sicuramente un pensiero che tutti quanti dovrebbero fare quando c'è una reazione che non capisce ci sono due questioni su questo che vorrei aprire la prima è se tu avessi vissuto delle conseguenze reali da quella sentirsi offesa sarebbe stato un problema perché perché da un certo punto di vista io ti dico è vero ognuno di noi ha la propria soggettività autocoscienza ciò che mi offende è diverso rispetto a ciò che offende te ciò che offende Federico Arianna e via dicendo e quindi sicuramente tu puoi dire delle cose senza sapere che io potrei offendermi perché non conosci tutta la mia storia via dicendo e questo è assolutamente e se tu sei una persona intelligente quando io reagisco sperando di reagire comunque nei limiti della ragione nevolezza e lì in quel caso forse sarebbe stato meglio che te l'avesse detto lì ti prego non fare questo poi però si scatena un pensiero che attualmente è ciò che fa parte un po' della cancel culture è in qualche modo questa cosa tu la devi pagare ed è questo lì subentra un problema lì subentra il problema che dicevo prima è quando la politica poi entra in questo tipo di questioni e quindi arrivo al secondo aggancio e poi ti lascio la parola perché questa è una questione caldissima su cui sicuramente ci si sta ricamando tanto ed è un dubbio che ho io se il primario significato che io do a una relazione di rottura di quel tipo lì è il sentirsi offeso di qualcuno che è diritto di chiunque prevarica il fatto che io non ho fatto veramente nulla di offensivo sulla base della mia storia perché come lei è la sua storia che la porta ad offendersi tu hai una tua storia che ti porta a non pensare che quello possa essere offensivo quindi è l'incontro di due contesti che non si non si conoscono ok non rischia di portare a una totale impossibilità di azione e faccio un esempio concreto sono assolutamente certo che la grandissima parte degli elettori di Trump quando l'ha eletto l'ha eletto con la sensazione che qualcuno avesse fatto loro del male che è un diritto è un diritto io penso che tu con le politiche economiche con quello che hai detto fatto con tutto quello che vuoi tu mi abbia fatto del male mi abbia danneggiato e quindi c'ho legittima il mio voler veder bruciare il mondo un elettore di Trump secondo me da un certo punto di vista c'era quella roba lì ok voglio vedere cambiare tutto e via dicendo ok se noi andiamo a perdere il il significato di ciò che è un'offesa un'offesa io posso offendere per qualsiasi cosa ma quell'offesa poi va esplicitata rischiamo un impasse totale perché chiunque può far emergere delle istanze che riporta a sentirsi offesi e il pericolo più grande è quella del consenso perché se il gruppo più grande e potente che ha i mezzi comincia a usare questo tipo di perché finché finché è la ragazza di colore che sente offesa per le treccine vabbè dici c'ha il contrasto e via dicendo ma se domani e secondo me questo è già successo proprio con l'elezione di trump che nel mio pensiero secondo me riavverrà tranquillamente fra due mesi a spanne però questo non lo voglio dare per certa ma è la mia previsione tu rischi di avere una parte preponderante dell'elettorato americano che è ancora bene o male lo stato con l'esercito più grande e potente e c'hai quella testina bionda a capo della macchina di morte più enorme della storia dell'umanità perché si sono sentiti offesi e quel loro sentirsi offesi in qualche modo li fa sentire legittimati e reagire in quel modo lì facendo pagare conseguenze enormi a tutti ok io sono abbastanza convinto ho fatto anche un podcast la scorsa stagione nel dire il fatto che tu ti senti cioè l'offesa di fatto è una cosa il tuo offenderti per qualcosa è comunque qualcosa su cui tu puoi lavorare esattamente quanto io posso lavorare sul e mi sembra che questo incontro stia mancando completamente io sento tantissimi divulgatori divulgatrici che dicono eh no se qualcuno si offende ha ragione non è vero non è così assolutamente ha le sue ragioni così come io ho le mie ragioni al dire ma è assurdo che si sia offeso perché perché è l'incontro di due percorsi che lì in quel momento dovrebbero avere la forza di dire almeno ok troviamo un compromesso e ma l'hai detto cioè in realtà ti sei fatto la domanda ti sei dato la risposta e vai no nel senso che allora tu hai parlato non è un incontro quello che è successo è uno scontro sì sì per l'appunto dovrebbe essere un incontro certo e io sono assolutamente convinta che stiamo stiamo subendo fortissimo il danno dell'istintiva polarizzazione anche in questo caso qui certo ma non c'è qualcuno che ha ragione a priori e qualcuno che ha torto a priori no è solo che da esseri umani noi viviamo un micro una cosa persona una vita personale e poi viviamo un macro che è una visione collettiva Ipsos Cosmos e Coinos Cosmos lo scontro violento che viviamo tutti ogni giorno però no allora c'è un'altra cosa una volta una bella parte delle persone non aveva voce in capitolo certo no e questo ha cambiato moltissimo proprio grazie a internet peraltro perché i social media da questo punto di vista hanno fatto una rivoluzione secondo me ancora non tutti si sono resi conto e tutti pensano che la gente stia sui social ancora si sta svolgendo si sta svolgendo no scusami sto parlando troppo ma i social media come diceva Umberto Eco hanno dato voce veramente a legioni di non dico imbecilli ma di persone che prima non avevano il megafono certo per cui metti questo più persone che hanno voce in capitolo metti che la società sia complessificata senza che ci chiedesse nulla cioè da tutti i punti di vista cioè noi fino a mia nonna Maria appunto ha vissuto tutta la vita a Romano Dezzelino ha visto al massimo cioè mio papà gli riportava le riportava le cose dal mondo perché lui invece ha girato tanto pensa che lui ha fatto l'università a Mosca un anno negli anni sessanta cioè per dire com'era mio padre però com'è mio padre però che tipo strano era da giovane però lei ha vissuto tutta la vita lì e il suo massimo incontro con la differenza era il marocchino che una volta a settimana con i tappeti passava già negli anni ottanta allora di fronte a nonna Maria di fronte a quello che oggi succede con le migrazioni con altre religioni con altre usanze con altri cibi è chiaro che io comprendo che siamo in una situazione così complessa che non se ne esce facilmente certo e che il rischio estremo è proprio di andare agli estremi ma in tutte e due le direzioni in tutte e due le direzioni cioè entro nello specifico di una cosa che mi è successa allora io sono molto a favore dell'uso dei femminili professionali però la questione non è non c'è un timbro non c'è un braccio automatico che fa i femminili bisogna conoscere in maniera molto approfondita il meccanismo morfologico dell'italiano cosa diventa cosa per cui docente non c'è bisogno di dire docento o docenta perché è una parola ambigenere mentre ministra e ministro ci sono bisogna sapere queste cose qua poi ci sono anche le anomalie tipo guida che torna sempre fuori peraltro che è un altro caso ancora eccetera allora discuto con una persona super femminista super paperetta ie ie che mi dice la presidenta e io dico no presidenta no non c'è bisogno perché a parte non si può sentire che questo lo puoi dire solo tu che sei anesteta della parola per me cioè tungsteno è una parola bellissima quindi anche è bellissima presidenta presidenta non è tungsteno in spagnolo la presidenta è normale è vero come avogata però o dottora da noi no cioè noi abbiamo dottoressa perché storicamente c'è dottoressa e abbiamo presidentessa sì che però non è mai stato usato nel senso di carica politica ma era piuttosto la moglie del presidente o la presidentessa del circo di bridge e quindi diciamo che la nouvelle vague linguistica degli ultimi trent'anni mica tanto nouvelle dice usiamo la presidente come ha fatto la professoressa Maraschio quando è stata presidente dell'accademia della Crusca quindi questa donna colta giornalista molto femminista molto convinta delle sue posizioni mi diceva no bisogna usare presidenta perché la presidente non è abbastanza femminile e io dicevo ma questa è la classica stronzata che diluisce il messaggio che invece va dato con molto rigore scientifico certo quindi presidente non va declinato perché come docente come insegnante come gerente è già quello che viene da un participio passato latino antico non ce n'è bisogno ma allora studentessa altra storia perché entra in uso in un periodo in cui i femminili si facevano in esse e quindi lo lasciamo stare non ha senso intervenire a posteriori sulle cose anche lì comunque ci ha messo del tempo per avvenire cioè nel senso non è stata una cosa così da un giorno all'altro sì però studentessa è tradizionale come professoressa come dottoressa lasciamoli stare questo era un po' il mio messaggio ecco ma tu immaginati da dove veniva questa posizione così estrema cioè fuck the system la presidente non va bene ci vuole la presidenta e io dicevo no perché morfologicamente sbagliato cioè non ha senso certo ecco quel genere di irrigidimento che pure era dalla mia parte no? non è che stavo dicendo la presidente fa schifo continuare a dire il presidente ma era altrettanto sbagliato perché polarizzando di nuovo rendeva irricevibile la cosa certo certo e questo io lo vedo succedere tanto e credo che ci sia una mancanza di approfondimento a volte da entrambe le parti sì sì assolutamente beh credo che se c'è una cosa che designa la polarizzazione è il fatto che non c'è neanche volontà di dire ok vado a guardare cosa c'è alle spalle di questa opinione recentemente sono stata accusata di ascientificità ma io sta roba la sto studiando da un quarto di secolo capito per cui quando scrivo delle cose quando dico è strano che la gente si adombri per ministra perché ministra c'era già in latino no? per cui capisco di più uno che si adombra per ingegnera al limite che però è come infermiera quindi se dici infermiera poi dici anche c'è però prima di accusarmi di ascientificità vai un attimo a vedere cosa ho fatto certo no c'è che non sto parlando perché ho aperto il giornale ho deciso adesso faccio la femminista poi vedi ecco è interessante questa cosa qua sai perché tanta gente si adombra per ministra non per ministra ma perché vicino solitamente c'è azzolina cioè nel senso è questo che fa adombrare molto spesso no si adombrava anche quando non c'era azzolina è la dimostrazione che la parola ha bisogno di essere appoggiata sempre da qualcosa a proposito no 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 però una questione politica c'è qui ti racconto un micro aneddoto poi mi odierai e mi sparerai no giuro 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 mai fatto violenza no 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 ma dico perché vado lunga alcuni dicono sindaca non si può sentire perché lo associ immediatamente a Virginia Raggi no e quindi vai in aceto questo me l'hanno detto anche ieri a Roma sindaca non si può sentire perché c'ha Raggi no non si può dire sindaca negli anni 70 era tranquillamente usato fuori dal mainstream cioè nei paesini e questo me l'hanno testimoniato diverse ex sindache cioè che persone negli anni 70 80 hanno fatto le sindache dei paesini piccoli eh tipo una una del barese una nel casertano diceva ma certo eravamo sindache certo per la popolazione non c'era nessun problema usare sindaca sì sì perché non c'era la questione politica no poi sul territoriale sul territorio perché perché questo è un punto molto interessante questo è un punto molto interessante sai questa è una cosa che mi fa sempre dubitare sul ruolo che internet sta avendo su certi dibattiti perché potrebbe essere che questo tipo di istanze questo tipo di discussioni siano molto più feconde a livello locale a livello piccolo a livello di piccole comunità internet invece ti mette a disposizione una tale incontenibile e incontrollabile varietà di opinioni di reazioni che tu sei tendente inevitabilmente a quella polarizzazione in realtà questi sono dibattiti che andrebbero riportati veramente nelle piazzette nelle comunità questo sarebbe fondamentale infatti quando porto il dibattito nella piazzetta della comunità non ci si insulta ma non perché io sono certo sto cavolo non perché io sia chissà chi ma perché tu capisci io pongo la questione in questi termini poi io capisco anche la paura dell'oddio ci tappano la bocca non possiamo più dire certe cose però anche quella è in fondo un'estremizzazione perché poi l'essere umano ha una capacità bellissima che è quella di come dire di non subire la pressa della storia ma di uscire dai buchini si cioè se tu guardi la storia del mondo degli esseri umani alla fine anche davanti a un'imposizione eccetera a un certo punto no c'è vince il gesto dell'ombrello cioè pensa alle grandi dittature non lo so mi ricordo perché io mi ricordo quando uccisero Ceaucescu in Romania una cosa terrificante la classica fine però del dittatore purtroppo arriviamo alla bestialità lì che proprio tu devi distruggere fisicamente il simbolo del male molto guerra stellari allora anche lì che sembrava una situazione dalla quale non sarebbero mai usciti perché c'era l'eminenza appunto c'era Darth Vader e poi alla fine la gente si è rotta ai cosiddetti per cui davanti alla tua forse per certi versi condivisibile paura che oddio si potrà dire sempre meno io penso che se si arrivasse a un punto di ingestibilità la gente si romperebbe le balle io credo molto nel rinnovamento dal basso perché è vero che quando si impone qualcosa a livello linguistico in Italia non funziona e lo dico in Italia perché in altri paesi si cioè la Germania ha fatto una riforma ortografica la Francia ascolta quello che dice l'Académie Française la Real Académie Spagnola in Spagna ha valore prescrittivo in Italia non c'è nulla di questo tipo e da cosa dipende questo secondo te? dipende molto dall'esperienza del fascismo secondo me che ha reso gli italiani linguisticamente allergici a qualsiasi imposizione e secondo me non solo alle imposizioni linguistiche cioè noi la facciamo lunga su tutte le imposizioni dalla mascherina caso più recente è fascismo imporre la mascherina è fascismo ora insomma ci andrei piano con le parole ma anche la cintura mi ricordo cioè quando io ero bambina la cintura di sicurezza la cintura di sicurezza ah sì sì dibattito mi limita nei movimenti non mi fa respirare esatto è bellissimo sarebbe stato bellissimo avere Facebook in quel periodo dai dillo si sarebbero lette delle cose straordinarie vabbè sì sì oppure quando hanno tolto il fumo dai locali cioè quando io ero ragazzina ancora si fumava nei ristoranti adesso sembra impossibile questo è un aspetto che mi farà sempre divertire e angosciare dell'italiano dell'Italia il fatto che è vero noi abbiamo questo sostrato che oserei definire quasi libertario anarcoide un po' anarchico e dall'altra parte però siamo innamorati e proni quando c'è qualcuno che ci va bene sulle cose più comode c'è questa ambivalenza straordinaria che è proprio se ci pensi il nucleo del fascismo però sono due facce della stessa medaglia appunto cioè sono emerse in quello che poi è stato il fascismo è emerso proprio per questa ambivalenza il rifiuto di qualcosa e poi l'adesione a critica è bellissimo anche cioè fra lo spaventato e il paraculo nel senso da una parte aveva paura di beccarti la galera o una pallottola e io un po' lo capisco che uno si adatta perché insomma alla fine alla pellaccia ci vuole l'eroe per rinunciare alla propria vita a cuor leggero e poi un po' per opportunismo anche questo noi siamo anche molto adattabili sicuramente poi l'idea secondo me l'idea di un uomo forte al potere in generale è attraente perché così non devo fare più niente quello che diceva De Mauro è la democrazia è difficile è una fatica e richiede la cittadinanza attiva assolutamente e tu non puoi fare il cittadino pedisseco in democrazia purtroppo invece tendiamo per vari motivi secondo me sto dicendo un sacco di secondo me quindi chi sta ascoltando lo metta sempre davanti un secondo me perché ovviamente è la mia visione ecco vedi è per quello poi andiamo verso la conclusione perché io veramente andrei avanti a parlare di queste cose poi comunque ci avremo un'altra 45 minuti e la gente qua che ci sta ascoltando se vuole viene a schio altrimenti ciao dicevo è per quello che in Italia è quasi preferibile che non ci sia quella manipolabilità del linguaggio perché perché noi siamo preda dei poteri stupidi noi siamo preda dei poteri stupidi perché perché è successo sempre e all'interno di un quella zona di grigio e di manipolabilità del linguaggio quando in Italia si sviluppano meccanismi di consenso di solito storicamente si va sempre dalla parte del conservatorismo sulle cose proprio quelle invece che dovrebbero essere e il contrario diventiamo progressisti nelle cose che invece bisognerebbe forse andarci con i piedi di piombo e dall'altra parte invece e questa cosa qua è credo da un certo punto di vista che l'italiano come lingua abbia anche una una maggiore odio magari non rispetto al francese però abbia una qualcerta resistenza a dei cambiamenti di un certo tipo non lo so questo è una sensazione io no non credo all'italiano gli italiani gli italiani proprio dice che no perché l'italiano è una lingua malleabilissima fra l'altro accogliente nei confronti dei forestierismi fin troppo in certi casi molti dicono sta deriva anglofona e poi ci sono gli anglofobi quindi quindi non direi che l'italiano strutturalmente è reazionario gli italiani sì e questo appunto lo diceva spesso De Mauro l'italiano sta benissimo schiatta le salute la cultura degli italiani no e nel momento in cui la cultura media dell'italiano medio scarseggia dove ci si arrocca ciò che conosci già certo quindi vuoi rendere più progressisti anche linguisticamente gli italiani devono studiare devi dare a loro gli strumenti e questo purtroppo non si fa cioè non è solo colpa ne parlavo oggi con una mia carissima amica che disegna spesso i miei pensieri che su instagram si chiama libri eccetriolini lei fa dei disegni pazzeschi delle cose che dico fa delle mappe mentali eccetera e lei diceva sì ma non prendiamocela sempre con l'ultimo perché se l'ultimo è l'ultimo un motivo ci sarà per esempio carenze strutturali nel percorso percorso scolastico per esempio la vita vissuta in contesti culturalmente deprivati del resto se tu hai deciso di stare qua non dico che schio sia culturalmente deprivata ma magari hai pensato posso fare di più posso fare la differenza qui quando magari in una grande città saresti solo uno dei certo e questo credo che sia cioè è lo stesso tipo di desiderio di seminare roba sì 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 poi come tutti i contadini sanno tu semini un sacco e solo una piccola parte dei semini germoglia per cui ci vuole anche molta pazienza assolutamente questo mi sembrava abbastanza importante è una metafora credo condivisibile per concludere per descrivere il linguaggio sono molto d'accordo sì comunque il linguaggio il linguaggio non è monolitico il linguaggio è in movimento il linguaggio percepisce molte cose della realtà a volte ci fa anche vedere meglio degli aspetti della realtà a seconda di come lo usiamo il linguaggio tiene conto dei cambiamenti culturali e di sensibilità cioè non voglio usare parole vietate ma 30 anni fa era normale chiamare invertito un omosessuale maschio invertito vuol dire che funziona al contrario della normalità cioè oggi non lo direbbe nessuno lo dicono su Tenet adesso è presente il film che è il tempo invertito adesso è il tempo invertito però non è non è nulla di politicamente scorretto esatto esatto però per fortuna dico io oggi sono d'accordissimo eppure una volta una persona dal sesso indefinito veniva chiamata ermafrodito con la definizione medica adesso c'è la possibilità di reagire insomma abbiamo più parole abbiamo più parole e questo va bene perché registra un cambiamento nella sensibilità e nella cultura ecco l'ultima cosa che poi veramente mi chiedo per sempre cioè poi rispondiamo alle domande sulla questione dei femminili professionali va detta una cosa non è una novità per esempio quello che io vedo spesso mancare nel dibattito è la competenza storica certo cioè io mi sono studiata tutto no tutto no ma molte cose dal latino classico sì al latino infimo quello tardo latino medievale all'italiano dei primordi a tutto il resto della del volgare dei primordi e i femminili sono costantemente presenti tutte le volte che spuntava una donna in un certo ruolo certo ok quindi avendo studiato la storia dico ragazzi i femminili sono naturali non sono una forzatura la forzatura è il contrario in realtà nel momento in cui è arrivata la politica dire il ministro azzolina è diventato di destra e dire la ministra azzolina è diventato di sinistra questo è un caso in cui il dibattito politico che pur comprendo perché c'è una parte che tradizionalmente ha fatto più attenzione a questi temi però è stata un po' la sua rovina sì sì perché se uno guarda la storia dubito che nel valdarno dove c'erano i tinctores ci si ponesse il problema politico quando è arrivata una donna e l'hanno chiamata tinctrix tinctrice o tintora cioè semplicemente era donna faceva la tintoria e quindi era una tinctrix sì sì la storia ci può insegnare davvero tanto assolutamente assolutamente vera è stato è stato veramente interessante credo che siano venuti fuori e non ci siamo presi abbottigliati ancora no c'è ancora tempo è vero però per adesso siamo salvi allora adesso che cosa accadrà beh adesso il daily cogito andrà a concludersi ma chi è online su twitch in diretta si fermi non esca perché alla fine della sigla risponderemo a qualche domanda ora le domande a cui risponderemo saranno dedicate ai soli abbonati quindi noi poi nella chat apriremo i soli abbonati e alla community di patreon che mi ha fatto delle domande precedentemente però per tutti gli altri insomma potete abbonarvi oppure potete seguire tranquillamente un altro quanto tempo abbiamo altri 10 minuti così riusciamo a rispondere a qualche domanda quindi intanto grazie mille Vera per essere stata su daily cogito e io spero che sia la prima di una lunghissima serie di collaborazioni grazie a voi che ci avete seguiti per questa per questa diretta grazie a Fede regista d'avanguardia non solo linguistica ma soprattutto tecnologica e ovviamente non dimenticate perché c'è la coda di sigla che mi dimentico sempre e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa che mi dimentico sempre